Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La possente saccatura nord-atlantica, prossima al Mediterraneo, sta apportando precipitazioni diffuse sul centro nord Italia. Sul lato orientale della saccatura si attiveranno forti venti di scirocco, con conseguente richiamo caldo e peggioramento del tempo anche sul sud Italia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 26 aprile. Al mattino possibilità di nubi basse o nebbie sui settori ionici e bassa murgia, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio aumento della copertura nuvolosa su tutti i settori, ma senza fenomeni. Durante la sera tornano le nebbie sull'arco ionico, altrove invece nuvolosità sparsa. Richiamo caldo che permetterà alle temperature di aumentare, soprattutto nei valori massimi, fino a 25 gradi sul tavolire, più contenuto sull'area ionica. Venti sostenuti meridionali, con raffiche fino a 30-40 km orari, specie sulla Puglia centro-meridionale. Per quanto riguarda i mari, molto mosso agitato allo Ionio, mosso all'Adriatico. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Nicolino Sciscio, che con il suo magnifico scatto ci riporta indietro di tre mesi. La neve, la scorsa settimana, ha fatto la sua comparsa su alcune località foggiane. Qui ci troviamo nella foresta Umbra, nei pressi di Vico Garganico. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.